io non studio mai io ho il calasso a lecce lo sportivo no io ho l'ipsia io ho l'istituto di maglia l'ipsia ragazzi mi raccomando che gli insegnanti che vogliono interrogare a tutti i fatti rimanere a casa facci rimanere a casa emiliano per favore ma io a me non funziona nel microfono telecamera per quello devi stare attento ragazzi buona serata grazie di questa chiamata sono molto carini lei è molto carino lei è molto carino forza legge però il legge è fortissimo molto forte ciao 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 ma lei lei escluso lei escluso lei escluso lei escluso lei escluso lei è il migliore lei è il nostro un abbraccio un abbraccio anche lei viva l'usalento forza ciao no vabbè non ci voglio credere non si puoi